Dopo la prima tappa ufficiale nella chiesa di San Giovanni Battista a Subbiano, dove avvenuta l'istituzione dei ministri straordinari della comunione, prosegue la visita pastorale dell'arcivescovo Riccardo Fontana. Associazioni ecclesiali, movimenti ed esponenti delle principali realtà impegnate nel mondo della cultura, del volontariato e dello sport, in rappresentanza dei differenti settori della comunità locale, hanno riempito il cinema parrocchiale di Capolona accogliendo Monsignor Fontana. Abbiamo voluto proprio, spaziando un po' tra tutto quello che è i movimenti, l'associazionismo cattolico, quindi tutti coloro che sono impegnati nelle comunità parrocchiali a vario titolo, a varia esperienza associativa, quindi da dopo scuola. E più tutte quelle associazioni laicali, chiamate così, che non sono come riferimento diretto alle parrocchie, però, ecco, investono tutte le attività dei paesi, quindi da quelli culturali, da quelli sportivi, ricreativi, le proloco, eccetera. E questo proprio perché nello spirito della visita pastorale il vescovo prende a conoscenza di chi c'è nelle nostre comunità e al tempo stesso le comunità coinvolte in tutti questi vari esercizi e funzioni che sono educativi, che sono di formazione, di aggregazione, eccetera. Ecco, mettendoci insieme a confronto, anche per uno spirito di collaborazione che dovrà sempre aumentare, cominciamo a prenderci a cuore il nostro territorio per ridargli un'impronta significativa. Perché, ora faccio un esempio, se c'è un'associazione sportiva, questi ragazzi come li vogliamo educare? Non si possono mettere soltanto in un campo per correre e basta, bisognerà che ci sia una forma educativa. Ora, non è che noi vogliamo imporre la nostra forma, però, ecco, anche loro si devono porre il problema di come far crescere questi ragazzi. Questo è un esempio, insomma, associazioni culturali. Il nostro Casentino è ricco di una cultura straordinaria, oggi ci troviamo di fronte a un impoverimento culturale anche. Come possiamo insieme, ecco, ridare slancio. Porto tutti questi due esempi, tanto perché si possa capire. Quindi, secondo me, è molto importante, ecco, questo incontro qui. Quali sono, secondo lei, al giorno d'oggi, gli elementi che minano l'unità ecclesiale? Forse è stato, eh, un po' di individualismo, di soggettivismo, di protagonismo personale. Questo da parte nostra e da parte di tutti gli altri. Cioè, quando si fa un'associazione non dobbiamo mettersi proprio sempre tutti, secondo me, nello spirito di servizio della collettività. Un'occasione di confronto per presentare al pastore della Chiesa Retina i numerosi soggetti che compongono la comunità di quest'area, quella del Basso Casentino, al fine di promuovere uno spirito di collaborazione e dare un'impronta significativa alle attività di ciascuna realtà, ecclesiale e non. Durante la serata molteplici sono stati momenti di dialogo tra il presule e i presenti. Condivido quello che, questo cammino, che secondo me è un'opportunità in più che si dà alle persone per avvicinarsi di più al Signore e alla Chiesa. È un'opportunità appunto per dialogare con tutti, qualsiasi persona è presente, anzi, c'è l'opportunità di sentire i giovani, persone che lavorano, persone che sono in pensione, tutte le problematiche e nello stesso tempo ci si confronta, in particolar modo in questo caso, con la Chiesa. Non è la solita cosa che si fa, che è appunto quella di andare in Chiesa a fare la cerimonia. È completamente diverso ed secondo me è giusto. Ascoltare la parola e poi riuscire a comprenderla e metterla in pratica, ecco, queste sono le occasioni da utilizzare in particolar modo. Non è soltanto ascoltarla e poi dentro di noi maturare quello che percepiamo, ma in questo caso è una maniera per confrontarsi con gli altri, creare un gruppo. Poi ecco, come diceva il Vescovo Domenica, è giusto non essere parocchie a sé, ma essere delle parocchie che diciamo fanno parte di un gruppo molto vasto, il che ci dà forza per fare tante altre cose. Anche il gruppo Fratres di Capolona Subbiano è presente all'incontro. Qual è il significato secondo lei di questa visita? Noi siamo un gruppo di ispirazione cristiana, quindi credo che a questi incontri sia doveroso partecipare. Siamo un gruppo di donatori di 650 iscritti e anche quest'anno abbiamo chiuso l'anno con 756 donazioni di sangue. Credo che siamo un gruppo molto ben eradicato ormai, però insomma ci dobbiamo sempre da fare per trovarne sempre di nuovi. Cerchiamo di riavvicinare i ragazzi, soprattutto i giovani, tra i 10, i 14, i 15 anni, nell'ambito anche parrocchiale, pertanto diocesano, coinvolgendosi un po' tutta la diocesi e soprattutto le parrocchie. Faremo un calcio, faccio degli esempi, un calcio A7 che poi è relativo anche alla Team Cup che la Serie A e la Serie B sponsorizzano. Non solo questo, ma vorremmo fare una manifestazione sportiva di livello di atletica, proprio a livello interparrocchiale, fare una Olimpiade, una mini Olimpiade che può essere della parrocchia diocesana, in un certo senso, al campo scuola. Questo è tutto un programma che è nato da un mese a questa parte, in quanto siamo un nuovo corso del centro sportivo. Vi chiedo di essere ambasciatori, protagonisti nelle vostre azioni quotidiane dell'annuncio della parola di Dio. Questo è il messaggio che l'Arcivescovo ha voluto rivolgere all'Assemblea, portando ad esempio l'esperienza di due sacerdoti missionari presenti in diocesi, Don Agapito, originario della Tanzania e vicario parrocchiale a Chitignano, il peruviano Don Rube, parroco di Marcena. Hanno lasciato la loro casa e la loro famiglia per annunciare il Vangelo a tutti noi, ha affermato Fontana riferendosi ai due preti. Vi chiedo nel vostro piccolo di fare altrettanto. È una cosa molto bella ritrovarsi insieme, anche con le varie parrocchie, le più vicine, anche quelle che sono un pochino più lontane, anche perché c'è questa carenza di parroci e mi sembra che sia un sistema questo per poter dare più, come posso dire, più possibilità, più opportunità alle persone di avvicinarsi e di essere seguiti, insomma, anche in questo cammino che trovo che sia tanto, tanto necessario. E questa visita in particolare credo che sia veramente un dono che noi riceviamo in questo momento. Un segno forte di unità, quello rappresentato dalla presenza delle varie realtà qui questa sera, lei è d'accordo? Mi sono accorto con questa partecipazione a questa assemblea che Don Giuliano ha anche un ringraziamento al Vescovo che ha fatto, che ci sono tantissime realtà che veramente non conoscevamo. Ci siamo presentati ora questa sera e veramente c'è delle realtà che noi anche come Proloco non sapevamo che esistessero in questo territorio. E questo ci fa molto piacere perché sicuramente riusciremo anche con loro a creare qualcosa di positivo non tanto per noi ma per i nostri cittadini nei vari settori. Un'importanza molto grande per quanto riguarda specialmente il paese di San Martino Soprarno che era molto tempo in cui non veniva festeggiata una visita del Vescovo di questa grandezza, diciamo, che va tutta la vallata del Casentino e quindi noi con molta serietà cerchiamo di rappresentare nel nostro piccolo quello che è la visita del Vescovo. Siamo un'associazione che è nata da pochissimo quindi cerchiamo soprattutto di dare vita alla popolazione, di rivalutare l'ambiente storico, la chiesa di San Martino che è molto antica, un ponte romanico, quindi cerchiamo di ridare vita così facendo parte anche di una popolazione piccolina cercando di far coinvolgere tutti quanti. Il dialogo può costituire secondo lei un elemento che fornisce anche un maggiore confronto con le altre realtà. Certamente aiuta tantissimo, penso che l'apertura di tutti noi dal più piccolo al più grande, dal gruppo più umile al gruppo grande fornisca un'entità enorme della comunità, della comunità del Basso Casentino. A distanza di una settimana il Cinema Nuovo di Capolona tornerà ad ospitare un altro incontro del lungo cammino della visita pastorale. Questo è il primo incontro qui nella nostra zona, al quale poi seguiranno altri incontri, per esempio quello del 21 gennaio, ore 21 sempre qui al Cinema di Capolona, che sarà inerente all'argomento del lavoro, appunto sempre con il Vescovo, argomento che appunto a noi ci riguarda essendo Circo Loacli. Grazie. 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 Grazie.